l'ingresso di mantova dal punto di san giorgio con la skyline noti per la prima volta e vedo che per la prima volta il restaurato lanternino del campanile di santa barbara caduto durante il terremoto del 2012 e restaurato e hanno aperto in questi giorni le palcature sempre stupenda visione auguri di buona pasqua a tutti